Buon viaggio, nuovo aggiornamento da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 il traffico è rallentato per la presenza di animali, rallentato in entrambe le direzioni tra Roncobillaccio e Aglio. Coda per la viabilità esterna che non riceve sulla Firenze Pisa Livorno, siamo all'astra a signa provenendo da Firenze, sempre sulla strada di grande comunicazione tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, materiali dispersi sulla carreggiata verso Livorno. Passiamo alla 12, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, anche qui una perdita accidentale in direzione di Rosignano. Prudenza sul raccordo Siena-Firenze, segnalata pioggia e la presenza di alberi sulla carreggiata tra lo svincolo Colle Valdelsa Nord e lo svincolo di Poggi Bonzi. Non ci sono altri aggiornamenti al momento, Muoversi in Toscana, ricordo, è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.